L'artista esistenzialista, un pensiero poetico del pomeriggio chiaramente rivissitato in serata Rimarrai deluso quando di te faranno gentile abuso I sentimenti non sono carta straccia e le parole dolce me in un cuore lacero Fanno facilmente breccia Cosa vuol dire tutto ciò? Tendenzialmente bisogna un attimino stare attenti Perché in tante situazioni si rischia di rimanere deluso e di rimanerci male Quando magari ci sono dei rapporti stretti, dei rapporti piacevoli Dove c'è effettivamente tanta volontà, desiderio di condividere un'emozione, una sensazione Uno stato d'animo del momento, quindi catartico del momento Però rimani deluso, rimani deluso, rimani male Non hai la benvenuta piacevolezza quando sai che c'è un sentimento C'è uno stato d'animo, che può essere un rapporto di amicizia Che può essere un rapporto interpersonale con altre persone Comunque è un bel rapporto effettivamente La storia d'amore fate voi Un amico che non vide un bel po' di tempo Ma che comunque ha avuto dei comportamenti poco piacenti in due confronti E quindi quando faranno un gentile abuso Cioè approfitteranno del tuo buonismo Della tua etica comportamentale, della tua educazione e quant'altro Ecco che quando c'è gentile abuso tu rischi di rimanere deluso I sentimenti I sentimenti per qualcuno sono carta straccia Non credo lo siano Per un bel po' di persone diventano carta straccia Perché si ha un po' di lassismo nei comportamenti Non c'è la etica comportamentale come dicevamo C'è un poco un reviver Diciamo tutto tondo per quelle che sono le sensazioni Ciò che rappresentano E quindi Quando poi si pensa a un uscite per divertimento Interessi personali Farsi pagare una cena O quello che volete Uscire, divertirsi, scopare quello che volete Fate voi Chiaramente non parliamo di sentimenti veraci Ma di cose poco piacevoli Poco gradevoli Cose a buon mercato Ecco E quindi in quel caso Quando il tuo cuore già sta in un attimino Un momento di difficoltà Contingente, convenuta Ecco che la parolina dolce La parolina ammiccata La parolina caramellosa Non può che essere Non può che far breccia molto facilmente In un cuore che già di per sé Ha tante difficoltà Quindi signori, attenzione Quando fanno abuso dei vostri sentimenti Perché magari hanno interessi personali E ribadisco E non è mai bello Quando quegli sentimenti Quegli stati d'animo Vengono considerati Scarta straccia Perché non lo sono mai E' giusto sempre dire ciò che si pensa Ciò che si prova Più che altro Ciò che si percepisce Se un bel sentimento Va decantato Va ufficializzato Va detto con la massima tranquillità Possibile e immaginabile E ribadisco Attenzione anche Le paroline dolci Che sono quelle Che a lungo andare Creano le crepe L'artista esistenzialista Buona serata A tutti Che a lungo andare